Buongiorno a tutti, il mio nome è Davide. In questo video parliamo di invecchiamento e di immortalità. Pronti? Nello yoga si parla, nei testi classici, del fatto che se faccio un asana, se faccio un bandha, se faccio un mudra, inverto, smetto, interrompo il mio invecchiamento e divento immortale. Ci sono due parole in sanscrito che sono jara e marana, che indicano appunto l'invecchiamento e marana, l'immortalità. Ora, che cosa significa? Ovviamente non è da prendere letteralmente, perciò non vuol dire che non invecchio e non vuol dire che non morirò. Bisogna capire che cosa si intende per invecchiamento e cosa si intende per mortalità nello yoga. Allora, l'invecchiamento non fa riferimento all'avanzare dell'età anagrafica. Quella avanza, c'è poco da fare. Ma l'invecchiamento fa riferimento alla perdita delle funzioni del corpo, funzioni fisiche e funzioni mentali. Infatti, tante volte noi possiamo vedere nella nostra realtà, nella nostra società, che più avanza l'età anagrafica, più funzioni del corpo vengono perse. Funzioni di vario tipo, appunto, fisiche o mentali che siano. Il mio corpo non invecchia quando, al crescere dell'età anagrafica, le funzioni vengono mantenute sane. Vengono mantenute i miei organi di senso, la mia mente, le mie funzioni fisiologiche. Non deperiscono, non calano la loro prestanza con il tempo. Allora, praticare quel tipo di asana, quel tipo di pranayama, mudra, banda, tutto quello che sono gli vari strumenti dello yoga, mi serve per impedire alle funzioni del mio corpo e della mia mente di andare verso un declino. Per quanto riguarda la mortalità, invece, si dice nello yoga che un corpo muore ogni volta che si allontana, ogni volta che non compie il suo dharma. Perciò io muoio a me stesso ogni volta che non mi alleo con le mie risorse ogni volta che non compio nel mondo il motivo per il quale sono stato chiamato. C'è una parola che è viadi e adi significa la mia luce interiore, la luce interiore, il fuoco, quello che mi mantiene vivo e legato a questo la motivazione per la quale io sono qui. viadi è il significato di viadi, solitamente è malattia, in verità significa allontanamento da adi, allontanamento dalla mia luce interiore, lontano da me stesso e in questo caso morente. Una persona immortale per quanto riguarda lo yoga è una persona che compie la sua vita pienamente, che nella sua vita agisce con l'obiettivo assolutamente di esprimere il suo potenziale nel realizzare il proprio dharma e non quello di qualcun altro. La parola che indica questo non è più viadi ma è samadhi. Sono in samadhi nel momento in cui sono veramente a braccetto con me stesso, compio il motivo per il quale sono a questo mondo. In questo caso non realizzo una mortalità ma mi mantengo in una immortalità. E allora praticare un certo tipo di esercizio di yoga mi mantiene sane le mie funzioni mentali e fisiologiche e mi aiuta, mi agevola nel compiere quello che è l'obiettivo della mia vita. Jara Marana Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, se ci sono delle domande le scrivete, condividete per piacere e vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro a tutti una buona pratica. Namaste